I contenitori Tetra Pak sono riciclabili e si raccolgono insieme alla carta. Vero, ma non così scontato che tutti lo sappiano. Per informare i cittadini indecisi su quale cassonetto utilizzare per le notissime scatole di latte, vino e succhi di frutta, c'è la campagna Pensa a Colori promossa da Tetra Pak Italia e arrivata ora anche nel comune di Pescara con l'obiettivo ambizioso, riciclare almeno 11 milioni di contenitori in Tetra Pak ogni anno. Tanti, infatti, sono gli imballaggi che passano per le mani della popolazione di Pescara, una città che ha detto subito di sì all'appello di Tetra Pak. Soprattutto per un discorso di ambiente e nell'ambiente anche la raccolta differenziata, che è una delle priorità che questa amministrazione si è data. Infatti noi siamo passati dal 24% dello scorso dicembre al 27% di febbraio. Questo grazie alla politica che si sta facendo del porta a porta che sta aumentando a vista d'occhio sulle città. Pescara è un'ulteriore tappa, comunque di un percorso di sensibilizzazione che parte da lontano. La campagna Tetra Pak è già operativa in 3.000 comuni italiane e coinvolge già ben 30 milioni di persone. Nel 2009 oltre 15.000 tonnellati di contenitori per gli alimenti che sono divenuti nuova carta e cartone, grazie anche al prezioso aiuto delle realtà del territorio che si occupano della raccolta. A Pescara la nuova sfida è stata raccolta dalla Attiva. Un opuscolo raggiungerà tutte le famiglie di Pescara e ci saranno dei manifesti per tutta la città che spiegheranno questo concetto semplice, cioè che il Tetra Pak è carta. Quindi una volta svuotato il contenitore, una volta anche sciacquato, magari senza residui di prodotto all'interno, tutto può essere conferito nel cassonetto della carta. Grazie a tutti.